history channel celebra le tappe del movimento lgbt plus in italia 1971 nasce il fuori fronte unitario omosessuale rivoluzionario italiano la prima organizzazione omosessuale in italia 1972 a sanremo durante un convegno che trattava l'omosessualità come malattia viene organizzata la prima manifestazione di protesta del movimento lgbt plus italiano la storia dei diritti è ancora da raccontare le stelle sono tante milioni di milioni la stella di negroni vuol dire qualità se negroni si sente nuovo clea ancora più potente formula con azione profonda sulla cute fino al 100 per cento di protezione dalla forfora clea la marca di shampoo maschile numero uno al mondo partner ufficiale wefa euro 20 24 vuoi sapere quanto vale la tua auto in modo facile e veloce online inserisci i dettagli della tua auto su noi compriamo auto punto it non ti daremo solo una stima ma il prezzo di vendita e dopo un breve check in filiale potrai venderci la tua auto scopri il tuo prezzo ora su noi compriamo auto punto it ah eccola un cattivo odore sui tuoi vestiti puliti può rovinarti la serata lavaggio dopo lavaggio i residui di sporco si depositano nella lavatrice e causano cattivi odori con il nuovo calgon 4 in 1 puoi ridurre del 97 per cento l'accumulo dei residui e quindi cattivi odori è finito il soffritto sapete tutti qual è il prossimo passo sì passo e chiudo ma take it easy acqua calda tre minuti e sayonara sbattimenti sai che bon easy abbiamo amato il bianco di dash sin da bambini lo abbiamo vissuto in famiglia ogni domenica e ci ha reso impeccabili e anche adesso che la famiglia sia allargata dash è sempre con noi per darci solo il suo meglio dash da sempre più bianco non si può tenere fuori dalla portata dei bambini il nemico ha usurpato il mio trono andiamo ad approdo del re questa inutile guerra deve cessare non vuoi prevalere no non così house of the dragon nuovo episodio lunedì alle 21 e 15 in esclusiva su sky atlantic e on demand la difesa chiama l'imputato al banco dei testimoni alzi la mano destra e dico lo giuro lei si dichiara colpevole no signore no no mi ha puntato la pistola in testa e ha sparato il dna non mette testify nuova stagione dal 17 luglio su sky crime ciao